Ginger Band, pronti per un'altra reazione a questa band non solo perché di Tatiana cantare, ma tutti i membri di questa band sono musici flessenti 321, Little Italian, ciao ragazzi, Ginger di nuovo tutta la band mi piace da morire, non solo Tatiana avanti, go! yeah can you start the song in a more powerful way than this one? here there was another drummer but the result is the same, powerful I'm loving so much that I am pushing my headphones in my ears to full listen every single little part of this one. Look at me, my body language explains everything. Oh my lord guys, this girl instinct is the instinct of a wolf, not of a dog. Oh my god. Oh guys, I actually can't believe it! I love so much this band. And if you are Ginger fans, please, I repeat myself, please check out Sickovidol band. Sickovidol is maybe the most beautiful hardcore band. So, oh man, so angry music vibes there. Wow! I love Ginger, guys. Ragazzi, se vi piacciono i Ginger cercatevi Sickovidol perché avete bisogno di ascoltare anche loro. Cross, crush bones, cross, crush bones, cross, crush bones, cross, crush bones. The one who disobeyed, she learned a cruel lesson of all ten stones. Your decision is objected, it has a basic skill to hurt. Sickovidol band. Sickovidol band. Sickovidol band. Oh my god Oh Please guys, it's over. It's over game over game over guys. Oh no way in a way It is over The music scene it is over after this one. It's over simply Game over Wow Look the ferocious face of this girl here. Oh my god Oh 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 Wow Wow Do you think the song is almost over because just 35 seconds until the end and 4 transitions in 40 seconds. Oh my god, this is crazy composition level. Look at me, I'm here with the Chopin composer t-shirt and I'm pretty sure that also Chopin would enjoy Ginger Band because this is genius inside the composition, guys. Wow. I'm still stunned. I don't know what to say. After 50 seconds, a different melody in the melodic part of the song by Tatiana. And at the minute 1.44, this melody sounds like it's Gwen Stefani singing in No Doubt Band. But immediately later, oh my god, at the minute 2.20, the song is so strong with the stopping guitar licks. there. Every time gloomy riffs and wild bass, all song long. And this explosive drumming. This merciless rhythm there, I love. Of course, not in a continuation, but every time with mid-section, every time different. And at the minute 3.06, this explosion, this burst of the music. And I repeat myself again. In the last 30 seconds, 4 transitions. In the last 35-40 seconds. Amazing, guys. Wow. Wow. This one, of course, is in my top 5 Ginger songs. This is brutal. This impact will be felt, oh man, all planet long. Oh man. And this is maybe also my favorite video clip. I love the interaction between her and this dog. Wow. The wild side of a person. Awesome. Gorgeous. I have to check the lyrics there, then, and to understand well everything. Ragazzi, io ho goduto come un porco maiale, come un maiale porco, durante tutta la canzone. Che vi devo dire? la melodia nel passaggio dal gridato, dallo scream, al melodico, dopo 55 secondi, è differente rispetto alla modulazione della voce che usa di solito. Anche al minuto 1.44 questa voce suona come quella di Gwen Stefani a momenti. in no doubt. Cioè, c'è un impatto vocale diverso. E non dipende dall'equalizzazione. Per cui lei modularla differentemente. Guys, I'm speaking a little bit Italian for my Italian friends because I'm Italian myself. Then touch the window to follow me and all the other reactions I already did to Ginger. You will have fun with me. Ragazzi, vi dicevo, dopo due minuti e venti questo pezzo che già era selvaggio per questo batterismo veramente estremo, alternato però ovviamente a tante sezioni in cui cambia, in cui si modifica con questo impatto brutale, molto hardcore. Dicevo che al minuto 2.20 c'è questa chitarra suonata con un tapping, con le dita, veramente un guitar lick meraviglioso. E al minuto 3.06 ecco che arriva l'esplosione, proprio diciamo la detonazione e il terremoto che distrugge tutto in questo impatto che verrà avvertito presso tutto il pianeta. Ma la cosa più incredibile è che quando al minuto 3.45, si è quasi all'epilogo della canzone perché mancherebbero 35 secondi alla fine, parte una fase in cui sono riusciti ad inserire 4 transizioni rapide in 35-40 secondi. Cosa gli vuoi dire? A me piacciono tantissimo e se non vi piacciono pazienza, a me sì. Toccate la finestra e seguitemi tutte le altre reazioni già fatte a Ginger. Guys, touch the window now and follow me in all the reactions I already did to Ginger. See you next time guys. Love ya!